Per collegarci adesso con Giacomo Bertoldi di Wallians che introdurrà invece il tema di come diversificare investendo con qualità nel settore immobiliare, gli passiamo subito la parola. Buon pomeriggio di nuovo, credo che vedete tutti la slide che sto condividendo in modo tale che poi vi farò vedere qualche dato. Di nuovo per passare sempre per i convenevoli grazie appunto per l'opportunità, reputo che ci siano sicuramente degli ampi spazi di collaborazione tra Wallians e la platea che ci sta seguendo anche questo pomeriggio e cercherò un po' di spiegarveli, complice anche un po' l'esperienza che abbiamo avuto nel corso degli ultimi anni con varie realtà che si sono poi affacciate al nostro mondo. Prima di passare diciamo però per tra virgolette questi tecnicismi vorrei spiegare un po' meglio cosa è Wallians e cosa fa Wallians e qual è diciamo stata la ragione per la quale abbiamo deciso di intraprendere questo percorso imprenditoriale. Allora Wallians nasce da un'esigenza da parte del nostro gruppo familiare che si è sempre occupato del mondo della grande distribuzione organizzata e in parte connesso a questo anche appunto di real estate immobiliare, per la maggioranza diciamo real estate commerciale per poi andare a trasformarsi sempre più anche in una parte collegata allo sviluppo residenziale quindi appartamenti e unità nel nostro territorio di riferimento che è sempre stato in Trentino. L'esigenza che abbiamo riscontrato poi nel corso degli anni era quella di diversificare da un punto di vista degli investimenti quindi cercavamo bene o male dell'opportunità di investimento che potessero creare nella pratica una maggiore diversificazione del nostro asset e dei nostri di fatto portafogli e di cui abbiamo cercato di capire se ci fossero degli strumenti alternativi che ci permettevano poi di accedere a dei progetti immobiliari e abbiamo riscontrato insomma che le tipiche soluzioni di investimento erano quelle che già conoscevamo quindi soluzioni di investimento tramite fondi immobiliari con magari anche delle complicazioni contrattuali di volta in volta perché comunque ogni operatore che avrebbe poi generato un'operazione immobiliare sarebbe stata una negociazione a sé. Quindi abbiamo cercato un po' di capire cosa potevamo fare sul mercato e abbiamo riscontrato questo diciamo problema dal punto di vista di opportunità di investimento e quindi consapevoli anche un po' delle nostre competenze in ambito real estate abbiamo visto un po' quello che succedeva negli Stati Uniti e abbiamo deciso quindi di portare in Italia un fenomeno che è partito negli Stati Uniti circa nel 2013 e che oggi Cuba ha oltre 25 miliardi di dollari investiti appunto in piattaforme simili a Wallians. Quindi cos'è Wallians? Wallians è una piattaforma immobiliare di investimenti che diciamo si dedica esclusivamente in maniera verticale a raccolta di progetti immobiliari che vengono proposti al proprio network di investitori e da dove talvolta appunto tanti consulenti indipendenti arrivano direttamente all'interno del nostro portale chiedendo informazioni maggiori proprio perché ci sono gran parte investitori, loro clienti che sono molto interessati ad approcciarsi a questo nuovo fenomeno. In Italia nel 2020 come leggiamo appunto nella prima slide il crowdfunding immobiliare ha finanziato oltre 182 operazioni per una raccolta di capitale di oltre 65 milioni di euro quindi ha registrato una crescita dell'86,5% rispetto al 2019. Questi sono dati chiaramente ancora piccoli se vogliamo vedere l'intero ecosistema diciamo del mercato immobiliare però dovete ben tenere a mente che questa tipologia di strumento di investimento è uno strumento di investimento che è sempre stato proposto all'utente che sceglie di investire all'interno del mercato immobiliare come utente retail. Quindi sono tendenzialmente utenti che non hanno gli stessi diciamo presidi di sicurezza che magari può avere un cliente vostro che invece ha un consulente che tendenzialmente spiega molto bene qual è il prodotto e cerca anche di indirizzare nelle scelte migliori e nell'interesse appunto del proprio cliente l'investimento migliore. In questo caso invece la piattaforma proprio per normativa si pone come piattaforma appunto autorizzata Consob e vigilata Consob in Italia invece in Francia siamo autorizzati e vigilati da AMF quindi la equivalente autorità dei mercati finanziari e diciamo hanno creato appunto questo regolamento che a livello normativo ha sempre posto l'esigenza di dare maggiori informazioni dare maggiore schiettezza legata all'investimento stesso all'investitore quindi a partire dall'investitore retail che comunque ha dei presidi di sicurezza che sono banalmente questionario mini feed, questionario di appropriatezza che vengono comunque posti tutti online quindi sempre in forma digitale però diciamo che sicuramente l'auspicio che i clienti arrivino in piattaforma abbiano comunque con sé un consulente indipendente che può incentivare da un lato sicuramente è una maggiore comprensione dell'investimento per noi è una questione fondamentale questione fondamentale perché ci stiamo accorgendo sempre più quanto innanzitutto nonostante i numeri che vediamo siano in Italia ancora piccoli il fenomeno stia crescendo veramente sempre di più ma dall'altro lato quanto sentiamo veramente tante volte l'esigenza anche di parlare con degli interlocutori ai quali diamo anche assistenza in chat perché ribadisco è una piattaforma interamente digitale però sentiamo veramente l'esigenza di una cultura e un'educazione finanziaria un pochettino più, un pochettino più evoluta e oltre che talvolta purtroppo anche un po' un'educazione proprio in generale da parte di taloni utenti che diciamo a livello digitale si c'erano talvolta dietro appunto degli schermi è un fenomeno che sta crescendo e quindi c'è necessità sicuramente di intervenire per creare veramente educazione finanziaria e lo vediamo anche un po' dagli importi appunto che vengono raccolti nel resto del mondo basti pensare che il secondo mercato nostro di riferimento su quale abbiamo iniziato a lavorare la Francia ha raccolto sempre su questo fenomeno quindi real estate crowdfunding ha raccolto circa un miliardo di dollari rispetto invece ai dati che abbiamo visto per il solo 2020 sul mercato italiano qua sulla tabella sulla destra nel grafico vedete l'importo raccolto da Wallians nei vari anni e quindi a partire dal 2017 quando abbiamo iniziato la nostra attività a settembre con una prima piccolissima opportunità di investimento sul nostro mercato qua in Trentino a Trento fu un progetto di circa 600 mila euro che vennero raccolti circa 60 giorni ora siamo passati a progetti di 3 milioni di euro che vengono raccolti in circa 10-15 minuti questo per far capire in realtà la potenza da un lato della struttura digitale e quindi il fatto che ci siano tanti investitori interessati a partecipare ma dall'altro lato la semplicità della procedura che viene appunto implementata in piattaforma che dà quindi un accesso veramente immediato all'investimento quindi vediamo che Wallians comunque ha avuto una crescita importante ha una market share sull'importo appunto investito all'interno del mercato italiano del 44% nell'anno 2020 quindi comunque continua a avere la sua posizione di leader in realtà dall'inizio del fenomeno continuiamo ad avere appunto questo posizionamento sicuramente molto importante come vediamo abbiamo una market share del 55% sul totale dei progetti immobiliari che sono stati proposti quindi noi abbiamo proposto 29 progetti su un totale di 52 per quanto riguarda invece la market share complessiva come già vedevamo prima abbiamo in questo momento 41 milioni di euro raccolti sul totale di 69 nel comparto equity crowdfunding per il real estate quindi abbiamo oltre 60% circa 60% di market share sul mercato e passiamo anche velocemente per qualche dato qualcuno l'abbiamo in realtà già visto però questi sono dati sicuramente rilevanti nelle poche slide che vi voglio presentare per poi procedere a raccontarvi appunto di alcuni punti che secondo me sono molto importanti nella spiegazione appunto del perché questo prodotto è un prodotto interessante appunto per gli investitori i 29 progetti finanziati già li avevamo visti nella slide precedente con circa 41 milioni di euro di investiti ora la prossima settimana verrà messo online un ulteriore progetto immobiliare a Milano con una raccolta di circa 2 milioni e anche questo sicuramente sarà un progetto che già ha suscitato un grande interesse da parte diciamo degli investitori che sono in attesa e hanno visto che il progetto sta per arrivare perché è stato messo appunto in coming soon all'interno della piattaforma l'altra cosa importante però è il tasso di successo il tasso di successo 100% nel senso che tutti i progetti che vengono proposti in piattaforma sono stati finanziati quindi adesso aggiungeremo di fatto al trentesimo progetto pubblicato ma per il momento abbiamo avuto tutti i progetti interamente finanziati veramente in poco tempo diciamo che la velocità di raccolta del capitale non è sinonimo necessariamente di qualità del progetto ma è sicuramente sinonimo dell'interesse che c'è da parte del mercato ci sono poi stati sei progetti conclusi fino ad ora chiaramente diciamo la durata media qua la vediamo di 14,4 mesi poi ci sono progetti che sono stati come immaginate parzialmente interrotti anche dalla situazione diciamo legata al covid però tutto sommato anche i progetti che l'anno scorso hanno avuto qualche blocco da punto di vista temporale ora sono comunque ripartiti e allo stato attuale sono stati rimborsati 7,23 milioni di euro inclusi gli interessi che in realtà non sono a tutti gli effetti interessi perché è a rendimento essendo questo capitale di rischio essendo equiti e hanno generato a tutti gli effetti un ROI medio annuo di 10,07 punti percentuali quindi certamente stiamo parlando di un rendimento sicuramente interessante ma la domanda spontanea che di solito ci fanno i vari consulenti così anche come gli investitori è com'è che vengono analizzate le operazioni sulla base di cosa certificate con operazioni interessanti oppure no allora questo è sicuramente un dato importante è un'informazione molto importante perché specifica molto bene qual è l'attività che Wallians fa prima di scegliere di pubblicare un progetto immobiliare è molto importante innanzitutto specificare che la normativa così anche come la futura normativa europea che entrerà in vigore a novembre tendono molto a far sì che la piattaforma abbia sicuramente degli incarichi cioè Wallians di per sé abbia comunque degli incarichi di verifica rispetto a un progetto immobiliare che viene ad esempio proposto comunque una raccolta di capitali che venga eventualmente proposta tramite il portale però punta anche molto su una sorta di responsabilizzazione da parte dell'investitore nell'effettuare determinate scelte proprio perché nel corso di questi anni gli investitori hanno investito molto e c'è stata veramente una crescita importante soprattutto nel mondo delle startup innovative si sono viste delle criticità rilevanti nell'ambito appunto di eventuali problemi che poi si sono riscontrati nei business stessi delle società tanti investitori sono rimasti a bocca asciutta ecco rimanere a bocca asciutta nell'ambito dell'immobiliare è abbastanza difficile con la tipologia di procedura che viene diciamo attuata all'interno di Wallians e cercherò di spiegarvela molto velocemente allora Wallians talvolta fa riceve operazioni immobiliari da parte di operatori ma la realtà dei fatti è che l'attività di scouting che noi facciamo all'interno della società è una diciamo delle attività mettiamo più costose oppure una delle attività comunque più impegnative che viene fatta all'interno del nostro team e questo significa che noi cerchiamo le soluzioni di investimento immobiliare quindi cerchiamo le società che siano potenzialmente interessate ad accedere alla finanza alternativa e di conseguenza poi verifichiamo se hanno i requisiti per potenzialmente accedere a questa tipologia di strumento e verifichiamo quindi il progetto immobiliare sulla base di svariati parametri con all'interno un team dedicato di analisi e un comitato di valutazione che poi delibera o meno se il progetto può accedere per i requisiti standard delle guidelines che abbiamo all'interno della nostra società può accedere o meno alla raccolta di capitali ci sono poi altre due diligence che vengono effettuate una in particolare è una due diligence che viene fatta con emissione di un rating da parte di Einstein Young è comunque una due diligence sul progetto immobiliare quindi non lo specifico sull'operazione immobiliare che tramite 11 parametri va a verificare effettivamente se l'operazione può essere interessante dal punto di vista di mercato dal punto di vista commerciale e anche dal punto di vista poi anche di parametri economici come ad esempio indici di assorbimento degli appartamenti tempi di costruzione congruità dei valori dei capex eccetera eccetera oltre a questo poi viene fatta anche una verifica di rating sui bilanci della società capogruppo o comunque del gruppo aziendale questo perché dobbiamo comunque sempre verificare e questa è una procedura scelta all'interno da parte di Wallians dobbiamo sempre verificare che le società che comunque raccolgono capitali non abbiano necessariamente criticità da un punto di vista strutturale di bilancio questo significa che nel momento in cui noi dovessimo rilevare che una società ha ad esempio un grandissimo patrimonio netto rientra comunque all'interno delle piccole e medie imprese e magari ha un'attività di generazione di fatturato di 40-50 milioni di euro questo potrebbe generare potenzialmente addirittura una criticità anziché un'opportunità perché significa che laddove ci fosse un'operazione immobiliare all'interno di questa specifica società o di questo gruppo aziendale che dovesse andare in default o dovesse creare delle criticità potenzialmente anche l'operazione ad essa connessa magari che viene sviluppata e proprio proposta sul portale potrebbe subire a sua volta delle criticità quindi questo per dire che viene fatta anche un'analisi del rating di bilancio utilizziamo in particolare un partner terzo che è Mod Finance e solo determinate società che rientrano all'interno di queste caratteristiche che vengono implementate nella nostra struttura organizzativa e quindi che hanno un buon rating anche di bilancio poi potranno accedere di fatto alla raccolta di capitali e è una tipologia di investimento a tutti gli effetti che quindi può essere proposto all'investitore raccontando a tutti gli effetti un prodotto ed è molto interessante questo perché ogni volta c'è un prodotto diverso e ogni volta un'operazione immobiliare ha una storia e soprattutto un asset informativo differente che dà anche l'opportunità poi potenzialmente di aggiornare i propri investitori, i propri clienti ogni trimestre grazie appunto ai report trimestrali che vengono pubblicati direttamente in piattaforma e che quindi tutti gli investitori ricevono una volta che vengono generati dalle società offerenti ovvero dalla società che raccolgono i capitali e sviluppano poi l'operazione immobiliare è evidente che questo strumento va conosciuto molto bene e quindi questo strumento deve dare l'opportunità al cliente di capire che si tratta a tutti gli effetti di un investimento, possiamo così definirlo imprenditoriale però a tutti gli effetti è un investimento immobiliare passivo perché l'investitore comunque non si occupa assolutamente di nulla benché sottoscriva quote o azioni di società di capitali non gli danno questi diciamo diritti amministrativi ma solo diritti patrimoniali e nelle tutte e quasi le ultime casistiche di operazioni immobiliari che abbiamo sviluppato si tratta di investimenti con diritti preferenziali sia di liquidazione del capitale investito sia anche di liquidazione del rendimento che dovrebbe essere generato o stimato nell'operazione immobiliare chiaramente si tratta anche qui di dati stimati quando si parla di durata e di rendimento medio scusate non di rendimento medio ma di rendimento stimato dell'operazione immobiliare stessa però è molto importante anche ricordare che tutte le operazioni immobiliari che vengono poi proposte sul portale sono impostate affinché l'investitore abbia comunque una precedenza rispetto all'investitore proprio perché non ha avuto tutti gli effetti diritti amministrativi ci vorrei aggiungere poi per chiudere anche il cerchio che Williams nasce come inizialmente opportunità proprio di diversificazione nel settore degli investimenti non nasce solo ed esclusivamente come una piattaforma che vuole dare uno strumento di investimento immobiliare che diversamente sarebbe stato accessibile tutti gli operatori che comunque arrivano da noi in piattaforma e che comunque noi contattiamo in piattaforma loro decidono di accedere a questa diciamo struttura alternativa della loro struttura finanziaria proprio perché vogliono ampliare le loro opportunità di mercato non sono operatori che sono alla ricerca di capitali facili sono operatori che vogliono fare più operazioni immobiliari che hanno addirittura già la struttura finanziaria tale per poter comunque svolgere quell'operazione tant'è che nell'ambito della nostra due diligence questi operatori comunque si pongono sul mercato già con delle delivere bancarie si pongono sul mercato già con la loro equity versata e nella due diligence proprio noi verifichiamo anche che ci siano proprio questi presupposti quindi che ci siano tutti questi elementi tali da far sì che ci siano delle garanzie quantomeno diciamo dirette da parte appunto dell'imprenditore che certificano che la sua operazione immobiliare comunque sarebbe andata avanti lo stesso anche in assenza diciamo del capitale raccolto tramite il portale per effetto quindi di questo se ci sono poi da parte appunto della platea eventuali appunto interessamenti specifici anche per capire meglio qualcosa sul non solo sull'andamento diciamo del mercato dell'equity crowdfunding ma anche sull'opportunità che oggi riscontriamo anche in altri ambiti in altri progetti che stiamo comunque sviluppando e che abbiamo iniziato a finanziare anche banalmente in ambito NPL c'è sicuramente l'opportunità di contattarci direttamente e di eventualmente appunto approfondire tutte le tematiche inerenti Wallians inerenti mercato del crowdfunding immobiliare e eventualmente anche in ambito appunto real estate quindi grazie mille rimango a vostra disposizione grazie Giacomo Bertoldi Grazie a tutti